Gentili amici di Riviera24 e Saint-Raymond, a tutti buonasera. Il tempo è bello, siamo in un perfetto regime anticiclonico. Vediamolo subito, parte dal centro dell'Europa, anzi quasi dalla Russia, attraversa tutta la media Europa, le Alpi, e arriva fino qui al Golfo di Valencia. Invece tutto intorno, Spagna, Atlantico, Isole Britanniche, Scandinavia, il tempo è brutto, è perturbato. Però noi dobbiamo stare in casa e magari ci godiamo queste belle giornate stando in casa. Purtroppo è ancora più dura, ma il sacrificio va fatto. Detto questo, la previsione è estremamente semplice. Andando fino a venerdì, ma secondo me anche oltre, almeno fino a sabato o domenica, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, un po' di foschia ogni tanto. La temperatura potrà aumentare. Adesso le minime magari sono fra 10, 11, 12 gradi localmente, ma di pomeriggio rasentiamo quasi i 20 gradi e probabilmente nei prossimi giorni li potremo anche superare, 21, 22, nelle località più favorite. Domani ancora un po' di vento da Levante, Levante greco, non superiore ai 15, 20 nodi. Poi dal pomeriggio smetterà e da dopo domani il vento perderà qualsiasi direzione. Magari sotto costa prepareranno le brezze termiche, a largo addirittura possibili calme locali. Il mare è ancora mosso domani, diventerà poco mosso, quasi calmo nei prossimi giorni. Mi pare che non ci sia nient'altro da aggiungere. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo presto.